Questo mercoledì 12 settembre inizia qui a Bari alla Fiera del Levante con un incontro voluto dall'assessorato agli enti locali della Regione Puglia. L'assessore Marida Dentamaro ha voluto incontrare i sindaci delle province BAT, Bari, Brindisi e Taranto, le province interessate al riordino degli enti locali. E' una riforma che non piace a nessuno, ha detto l'assessore Dentamaro, questa relativa al riordino delle province che non ha avuto il coraggio di affrontare la Costituzione per arrivare alla soppressione degli enti. Una riforma che non piace agli amministratori, non piace ai dipendenti e soprattutto ai cittadini. La riforma non piace perché non è chiara, non si capisce effettivamente quanto, se verrà conseguito, in che modo verrà conseguito questo effettivo risparmio in termini di spesa. Sollecitare i sindaci ad assumere iniziative perché il vero potere decisionale nell'ambito di questo processo di riforma è nelle mani dei comuni. Sono le comunità locali ad essere arbitre del proprio destino perché sono libere di aderire a una provincia o ad un'altra oppure alla città metropolitana. Naturalmente la regione auspica che i comuni non viaggino in ordine sparso ma concordino reti, facciano sistema tra di loro perché comunque bisognerà pensare ad una riorganizzazione del territorio che punti su ambiti subprovinciali o submetropolitani perché in ogni caso andiamo incontro alla creazione di enti di area vasta molto estesi e anche di somogenei perché i paletti fissati dalla legge statale sono molto rigidi. Quindi in questi ambiti le comunità locali possono riorganizzarsi e la regione vuole sollecitarle in questo senso. Grazie a tutti.